Il Consorzio Cipolla Rossa di Tropea ha partecipato a questo bando PSR della Regione Calabria, della misura 3-2, che è un progetto dedicato alla promozione dei consorsi del territorio calabrese. Lo abbiamo sposato a pieno sin dall'anno scorso, abbiamo iniziato con il Cipolla Part sul territorio di Tropea, ma naturalmente a causa Covid non abbiamo dato il massimo nell'annata precedente. Si spera che con questo nuovo evento, a cui abbiamo dato un nuovo volto, chiamandolo Tropea Experience, andremmo proprio a confonderci col territorio, mettendo in risalto quelle che sono non soltanto le caratteristiche e la rindondanza a livello mondiale e nazionale di questo prodotto, ma quanto è intrinseco con il territorio dal quale deriva. Il Consorzio Cipolla Rossa di Tropea